Quarta e ultima ripresa Cazzo la spalla Mi sembra un modo Dai Aia Anch'i Grazie Grazie Par� Parisi . su le guardie picchia 10 secondi e finisce il pezzo e ora finiamo il giardetto ricordiamo che la categoria 57 ricordiamo alla fine i punti di passata al tavolo giugno ricordiamo il giardetto 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 sale a premiare questo incontro il responsabile della vittoria signor Cota Felici Riccardo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti